Video 15 parte 8. Come ho dipinto questo tramonto? Io uso il colore bianco per dipingere la luna in mezzo alle nuvole. In primo luogo, dipingo il cerchio della luna, poi i crateri. I mix magenta e il blu cobalto di dipingere l'oceano. Prima di allora, ho dipinto il riflesso del tramonto, nel centro di giallo e magenta e bianco. I colori sono gli stessi per dipingere il sole nel cielo. Il colore viola è il risultato della miscelazione con blu magenta. Aggiungo più blu cobalto e magenta per fare un colore più scuro. Io uso i colori più scuri di distanza dal centro e l'orizzonte. Mi si alternano tra colori chiari e scuri per dipingere le onde dell'oceano. Io uso i colori più scuri nella parte anteriore. La differenza di colore aumenta la profondità del paesaggio marino. L'alternanza tra le righe scure simboleggia le onde del mare. Questo video continua in parte 9.